A tutti il più cordiale saluto, siamo le notizie di Cronaca in diretta per il Tg Interregionale di Antenna Sud che apriamo proprio con una notizia di poco fa di Cronaca Nera. Un'operazione congiunta denominata Copia e Incolla da parte dei finanzieri della Guardia di Finanza di Putignano in collaborazione con i Carabinieri. Ha portato al sequestro di beni per circa 10 milioni di euro. Il tutto ruota intorno ai crediti tributari dei cosiddetti bonus edilizzi. Vediamo nel dettaglio quello che è successo nel servizio d'apertura del nostro telegiornale. Sarebbero state emesse fatture per lavori di ristrutturazione mai eseguiti su 90 immobili. L'operazione congiunta Guardia di Finanza e Carabinieri che ha portato alla luce crediti tributari fittizi relativi ai bonus edilizzi nel barese. L'operazione Interforse denominata Copia e Incolla ha consentito agli investigatori di accertare presunte irregolarità per circa 10 milioni di euro. Altanto ammonte il valore dei beni ai quali sono stati apposti i sigilli. I militari hanno eseguito un sequestro preventivo. In seguito alle indagini dei finanzieri e dei carabinieri di Pugnano sull'asse Bari-Roma e il GIP presso il Tribunale di Bari ha emesso un decreto di sequestro di beni immobili, disponibilità finanziarie e crediti nei confronti di una società e tre persone coinvolte a vario titolo e indagate per truffa aggravata ai danni dello Stato, ricettazione, autoriciclaggio e uso di atti falsi. Sarebbe stato messo in piedi un articolato sistema di frode finalizzato all'indebito utilizzo delle regolazioni previste dagli interventi edilizi disciplinati da Superbonus ed Ecobonus. In particolare è stato individuato un circuito fraudolento intorno alla figura di due degli indagati i quali avrebbero costituito e gestito una società edile potignanese amministrata da una prestanome che avrebbe emesso fatture per lavori edili mai effettuati in danno a dignari contribuenti generando così ingenti crediti fiscali fittizi ottenuti grazie al meccanismo dello sconto in fattura. Parte dei crediti così ottenuti dalla società sono stati poi ceduti ad altre due società di capitali di Bari e Venezia a prezzi notevolmente scontati rispetto al loro valore nominale e utilizzati in compensazione con i modelli F24 di debiti di natura tributaria previdenziale. Grazie agli accertamenti bancari effettuati dai militari della Guardia di Finanza nonché il riscontro effettuato dai carabinieri presso 90 immobili interessati da lavori edili di ristrutturazione ubicati nelle province di Bari, Lecce e Potenza e le testimonianze degli stessi proprietari avrebbero confermato quanto emerso dalle indagini. E adesso cambiamo argomento, facciamo una parentesi dedicata al capologo regionale pugliese a Bari dove c'è la prima uscita ufficiale della nuova giunta del sindaco Vito Leccese. Ci colleghiamo in diretta con il quartiere San Pio da dove parte questo tour dell'esecutivo del capologo regionale e poi ci sarà questa passeggiata, tra virgolette definiamola così, in tutti i rioni della città. Antonio Bucci in diretta, buon pomeriggio Antonio, a te la linea. Eccoci, buon pomeriggio Gianni, si è conclusa adesso la prima fase della campagna d'ascolto dell'esecutivo qui a San Pio quella alle mie spalle è la parrocchia della Natività e qui si sono riuniti alcuni dei residenti per ascoltare la giunta ma soprattutto si è riunita la giunta per ascoltare i residenti. Abbiamo accanto una delegazione con Domenico Scaramuzzi che eredita le opere pubbliche e la mobilità e l'assessore Vito Lacoppola che adesso ha un assessorato che tiene dentro tutta la formazione è l'assessorato alla conoscenza e fa parte del pacchetto di rimodulazione delle deleghe. Intanto com'è andata? Che bene pare? È andata benissimo, è la prima uscita della giunta, il sindaco teneva appunto a fare questa uscita in un quartiere cosiddetto periferico perché è importante riannodare i fili del dialogo con queste realtà. Noi su questo territorio, appunto rimanendo in tema delle mie deleghe, abbiamo un po' di opere in corso abbiamo terminato la riqualificazione della pubblica illuminazione e il nuovo manto erboso del campo di calcio e sta per partire tutto il progetto di riqualificazione energetica e ristrutturazione del palazzetto di San Pio badate bene con dei fondi PNRR per l'inclusione sociale proprio a dimostrazione di quello che è la valenza dello sport per l'aggregazione e appunto l'aggregazione sociale in un quartiere così difficile si va dalla sostituzione del tetto che aveva delle infiltrazioni alla sostituzione del parquet al rinnovamento di tutti gli impianti di riscaldamento alla copertura con impianti fotovoltaici appunto per l'efficientamento energetico ma su questo territorio sono state fatte tante altre opere pensate che quasi per intero l'80% è stato completamente riasfaltato fino a un anno fa la pubblica illuminazione allora noi abbiamo 30.000 corpi illuminanti in tutta la città ebbene ne abbiamo cambiati circa 11.000 per circa un terzo dove abbiamo messo potete notare degli impianti a led con del telecontrollo ebbene la media cittadina si attesta intorno al 28% in questo quartiere li abbiamo sostituiti tra il 50 e il 52% c'è stata un'attenzione all'amministrazione dal punto di vista della cura del territorio che è la delega che occupo io però il quartiere avverte, sente ancora forte l'isolamento, la distanza dal centro questo è uno dei passaggi, questo te lo aggiungo io fuori busta tra le sfide di questa stessa rosa c'è il BRT che è una sorta di grande metropolitana di superficie questi sono i tempi contingentati del TG ma poi avremo tempo di raccontarcelo il sindaco ha detto io capisco che bisogna intervenire perché non vedo la gente muoversi ecco la conoscenza e tutta la filiera della conoscenza che guida è una delle leve in questo senso beh sicuramente perché riguarda la formazione delle future leve, delle prossime generazioni quindi dei nostri bambini, dei nostri ragazzi il nostro impegno, il mio impegno in questa amministrazione è quello di cercare di garantire oltre che un avvio regolare all'anno scolastico ma cercare di migliorare le condizioni strutturali le condizioni di utilizzo delle nostre strutture scolastiche e favorire soprattutto l'integrazione l'integrazione non deve rimanere solamente un fatto verbale o diciamo a livello giornalistico noi dobbiamo favorire l'integrazione cercando di seguire anche quei progetti nazionali oggi si discute tanto di IUS scuole credo che sia questo il momento giusto abbiamo in Italia circa 900.000 studenti che frequentano, studiano sui nostri testi scolastici ma non hanno la cittadinanza beh questo è un fatto grave favorire l'integrazione sicuramente e favorire la legiferazione in materia garantendo appunto la cittadinanza anche a questi ragazzi grazie, grazie a entrambi gli assessori il resto della giunta al netto di loro che abbiamo strappato colpevolmente è a visitare la cittadella del cinema la scuola di cinema di questo quartiere noi adesso ci spostiamo poi ci ritroviamo nel corso del TG provinciale grazie Antonio, ci vediamo dopo tra poco dunque continuando a seguire questo tour nei quartieri il primo quindi la prima uscita ufficiale della giunta comunale di Bari legata al sindaco Leccese da un tour all'altro andiamo a Foggia perché prosegue il giro di Forza Italia tra le carceri pugliesi per verificarne le condizioni oggi in mattinata c'è stata una tappa a Foggia con l'onorevole Gian Diego Gatta e il consigliere regionale dell'Erba c'era per Antena Sud Antonella Davola un'estate di mobilitazione nelle carceri italiane con visite presso gli istituti penitenziari per verificarne le reali condizioni e l'iniziativa denominata estate in carcere promossa da Forza Italia voluta dal segretario nazionale Antonio Tajani in corso dunque le visite presso le case circondariali pugliesi nelle scorse ore il deputato azzurro Gian Diego Gatta insieme al consigliere regionale Paolo Dell'Erba hanno visitato il carcere di Foggia aggravato dal tasso di sovraffolamento maggiore a livello regionale con una percentuale pari al 185% dato che risulta ancora più preoccupante se rapportato alla carenza di personale circa una sessantina di risorse in meno a fronte della pianta organica prevista adesso ci apprestiamo a visitare per capire quali sono le altre peculiarità per cui bisogna intervenire perché non dobbiamo dimenticare che il detenuto in carcere deve essere anche aiutato a migliorarsi quindi ha bisogno di un'assistenza psicologica di un'assistenza medica anche di queste cose che chiederemo informazioni ai dirigenti del carcere vivere e scontare la propria pena in strutture faticenti talvolta addirittura prive dei minimi servizi con carenze di natura igienico-sanitarie significa abrutire coloro i quali vi entrano per espiare una pena e ne escono magari ancora più come dire, dediti al crimine in questo consiste la nostra ispezione trarremo un report un documento che trasmetteremo al Dipartimento Giustizia di Forza Italia che ne trarrà poi un documento conclusivo sul quale lavoreremo è una battaglia di civiltà che ci vede coinvolti in prima linea rispetto al quale ci assumeremo le nostre responsabilità per migliorare la qualità della vita dei detenuti ma anche degli agenti di polizia penitenziaria e di tutto il personale che lavora all'interno delle strutture carcerarie e adesso parliamo delle aggressioni ai medici e ai sanitari in generale costretti a chiedere il porto d'armi o in alternativa alle dimissioni in massa camici bianchi di nuovo in allarme dopo le recentissime aggressioni che sono avvenute in Puglia a Taranto e nel Salento dallo SMI il sindacato dei medici italiani Ludovico Abbaticchio rilancia l'appello alla sicurezza degli operatori del settore sentiamo Antonio Bucci Noi abbiamo dichiarato basta questa storia oppure chiederemo il porto d'armi per provocazione nei confronti di un'assenza delle istituzioni su questo tema della tutela del medico e del medico donna soprattutto basta un poco acquisire un'auto di servizio avere una guardiania una videocamera un body cam basta organizzare dare segnali importanti con variazioni a bilancio adeguate costretti a chiedere il porto d'armi o in alternativa a dimissioni in massa che si stanno già concretizzando le aggressioni ai camici bianchi tornano a far paura due episodi in pochi giorni l'ultimo a Minervino di Lecce l'altro nel Tarantino e non bastano le richieste di tavoli urgenti ci sono dei genitori che accompagnano le notti le figlie a farle guardie ma stiamo scazzando credo che ormai sia insufficiente questo tipo di sistema e poi ce lamentiamo se i medici di famiglia o i medici di guardia medica giovani abbandonano il servizio pubblico vanno nel privato o vanno all'estero c'è bisogno di una nuova presa di coscienza e di conoscenza di questo servizio che è fondamentale per aiutare i cittadini in più difficoltà soprattutto di notte soprattutto nei giorni pre-festivi e festivi e nelle zone periferiche dei territori perché non parliamo della città Capolò ma immaginiamo che significa non so nella bassa Muggia nell'Irpinia cioè ci sono situazioni importanti che non possono essere lasciate così adesso basta cioè non scherziamo più basta ancora cronaca ma questa volta ci spostiamo in provincia di Brindisi a Cisternino dove purtroppo siamo costretti a raccontarvi l'ennesimo incidente stradale con una vittima vediamo il servizio soprattutto vediamo come è andata un uomo di 52 anni Martino Albanese di Cisternino ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 5.30 di lunedì mattina alle porte del paese nei pressi della rotatoria per Caranna sulla strada che attraversando la gravina porta verso Fasano l'uomo che lavorava nel settore agricolo in una nota struttura alberghiera fasanese viaggiava a bordo della sua Fiat Punto Rossa che si è scontrata frontalmente contro una Jeep Renegade condotta da un Martinese che si dirigeva a Cisternino Albanese è morto sul colpo tra le lamiere della sua auto per estrarre il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni il conducente dell'altra auto ha riportato solo lievi ferite il traffico da Cisternino verso la costa è stato deviato per alcune ore in direzione di Contrada Caranna l'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo in cui si verificò l'esplosione nel trullo in cui perse la vita un ingegnere di Bari non si ferma la serie di incendi che stanno devastando la Puglia ieri e nelle scorse ore ne abbiamo registrati altri due vediamo quello che è successo in Salento andando a Taviano il servizio di Francesco Schiavano Paura a Taviano nel pomeriggio di domenica 25 agosto intorno alle 17 per cause ancora da accertare il materiale contenuto all'interno di un compattatore ha preso fuoco quest'ultimo era situato all'esterno di un supermercato di via Pasubio a ridosso della parete esterna dell'edificio ad accorgersi dell'incendio sono stati i clienti dell'esercizio commerciale i quali hanno provveduto immediatamente ad allertare i vigili del fuoco i caschi rossi intervenuti dal distaccamento di Gallipoli e Ugento hanno domato il ruogo impedendo ulteriori danni le fiamme infatti hanno annerito il muro esterno del supermercato le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa tre ore e un altro incendio ha devastato diversi ettari di macchia mediterranea che sono andati in fumo a seguito di questo ruogo avvenuto a specchia Tarantina a cavallo tra i territori comunali di Martina Franca Grottagne e Villa Castelli durissimo il lavoro per i vigili del fuoco un vasto incendio è tenuto sotto scacco per tutto il pomeriggio di domenica 25 agosto le campagne a ridosso di specchia Tarantina le fiamme alimentate dal caldo torrido si sono propagate rapidamente mettendo a rischio decine di ettari di preziosa macchia mediterranea a cavallo dei territori comunali di Martina Franca Grottaglie e Villa Castelli sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco delle associazioni di volontariato e protezione civile e dell'Arif supportate da due Canadair che hanno sganciato acqua per domare le fiamme dall'alto la polizia locale di Martina Franca e la polizia di stato hanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e per delimitare l'area interessata dall'incendio a scopo precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni situate nelle immediate vicinanze delle zone colpite dalle fiamme l'emergenza è rientrata dopo diverse ore e nel tardo pomeriggio la situazione è tornata sotto controllo parliamo adesso di sanità tornando nell'assalento a Lecce l'ospedale Fazzi i casi di legionella bene a tal proposito giungono i chiarimenti da parte dell'azienda sanitaria locale sentiamo nessun ritardo negli interventi per eliminare il problema della legionella nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce e quanto ha precisato l'ASL in una nota dopo l'allarme che era scattato nelle scorse ore tra le corsie del presidio sanitario salentino in seguito alla lettera di Anna Patrizia Barone direttore medico dell'ospedale Roberta Tornese dirigente medico nella quale si invitavano i referenti infermieristici delle unità operative di malattie infettive e psichiatria a non utilizzare l'acqua calda sanitaria per l'igiene personale dei pazienti raccomandando di procedere con l'acqua in bottiglietta per il lavaggio dei denti e le salviettine umidificate per l'igiene in seguito ai risultati degli ultimi campionamenti effettuati il 24 agosto alle ore 7 sono stati avviati i lavori di bonifica dell'impianto idrico fanno sapere dall'aslo di Lecce e nella tarda mattinata del 26 agosto ha avuto luogo l'intervento di disinfezione con iperclonazione per cui è stato disposto il blocco dei ricoveri i pazienti nel reparto intanto sono stati sottoposti a tutte le analisi necessarie non sono stati trasferiti e beneficiano di tutta l'assistenza e delle cure necessarie in quanto dagli esami di laboratori effettuati emerge che non c'è nessun cluster che nessuno dei ricoverati nelle malattie infettive psichiatria presenta sintomatologia da legionella gli esami assicurano verranno ripetuti tra dieci giorni nessuna negligenza né sottovalutazione quindi ma un iter regolare nel rispetto di norme della salute individuale pubblica conclude la nota con la quale l'aslo di Lecce ha voluto tranquillizzare tutti invitando a non destare allarmismo portiamo pagina il futuro dell'ex Ilva di Taranto vivrà una fase cruciale in questo mese di settembre perché si va speditamente verso il passaggio di consegne dello stabilimento siderurgico di Taranto vediamo qual è il punto sulla situazione nel servizio di Leo Spalluto vediamo il servizio Il conto alla rovescia è già cominciato ma con meno di un mese alla scadenza delle manifestazioni di interesse per l'acquisizione di acceglierie d'Italia fissate per il 20 settembre una manciata di settimane per decidere il futuro del gruppo siderurgico e dello stabilimento di Taranto il bando unico è stato lanciato a fine luglio dalle due amministrazioni straordinarie esistenti la vecchia Ilva in AS e la nuova acceglieria in AS i candidati a meno di sorprese restano quelli già conosciuti che hanno effettuato sopralluoghi allo stabilimento richiesto informazioni in eballo gli indiani di Vulcan Steel e Steelmont che dovrebbero presentare una richiesta unica gli ucraini di Metinvest i canadesi di Stelco gli italiani di Marcegaglia e Sideralba che potrebbero limitarsi ad una richiesta relativa alla produzione di tubi finora tutto tace ma è un ovvio incrocio di strategie le proposte probabilmente arriveranno tutte negli ultimi giorni che precedono la scadenza agosto però non sta passando in vano sono infatti arrivati sui conti della nuova amministrazione straordinaria i 320 milioni del prestito ponte approvato dall'Unione Europea che serviranno tra le altre cose a programmare la ripartenza dell'Alto Forno 1 in autunno e dell'Alto Forno 2 all'inizio del nuovo anno i commissari sono anche in trattativa con una banca americana per un ulteriore arrivo di fondi per un totale di 200 milioni di euro e adesso andiamo a vedere questo servizio che giunge dal Salento per una celebrazione a 45 anni dal salvataggio in Vietnam una missione che coinvolse anche i militari oltre che a tanti civili sentiamo Francesco Schiavano è la missione che più abbiamo nel cuore tutti quanti i tre equipaggi sicuramente non dimenticheranno mai quei momenti lo stromboli in particolare perché era destinato per il giro del mondo all'equipaggio si chiese volete andare in giro per il mondo fare una crociera che tutti quanti invidiavano l'equipaggio all'unisono rispose no andiamo a salvare quei poveretti che hanno bisogno di noi erano presenti i membri pugliesi dell'equipaggio dell'ottavo gruppo navale della Marina alcune delle persone soccorse le autorità civili e militari è stata un'intera giornata organizzata dalla sezione di presiccia acquarica dell'associazione nazionale marinai d'Italia a ricordare la missione soccorso in Vietnam un'operazione iniziata il 27 giugno 1979 che coinvolse tre navi l'incrociatore Vittorio Veneto l'Andrea Doria e la nave d'appoggio Stromboli è un'operazione la quale la Marina ha dato tantissimo perché in un momento appunto della guerra fredda in cui vi era una stasi internazionale si mosse per prima la Marina italiana riuscì benissimo l'operazione perché furono tratte in salvo circa mille persone e si stabilì subito un bellissimo rapporto fra il popolo vietnamita che fu salvato e gli equipaggi la giornata per ricordare il 45esimo anniversario dell'operazione è iniziata nella mattinata di domenica 25 agosto con un corteo e una cerimonia solenne in piazza alla quale ha fatto seguito la consegna degli attestati ai veterani dell'ottavo gruppo navale intervenuti agli ex profughi vietnamiti in serata poi la presentazione del libro Missione Bot People e le testimonianze dei presenti quest'anno invece ho voluto coinvolgere sia gli equipaggi degli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria sia rintracciare ed è stato un lavoro veramente molto faticoso alcuni diciamo ex profughi vietnamiti oggi credo che qui a Prisiccia Quariga abbiamo scritto veramente una pagina di storia e da un anniversario all'altro i 45 anni che vi abbiamo appena raccontato della missione dal Salento in Vietnam e i 14 anni dall'omicidio di Sara Scazzi ad Avetrana il famoso caso Avetrana il riepilogo di quello che è successo in questi 14 anni nel servizio di Leo Spaduto Il tempo scorre a nebbia il passato e così 14 anni dopo l'omicidio di Sara Scazzi ad Avetrana resta nella memoria di tutti ma svanisce dall'home page dei massimi giornali nazionali soppiantato da nuovi omicidi e casi di cronaca in un eterno fluire che sostituisce con nuove atrocità quelle del passato nessun cenno anche nel fondo delle pagine per il caso di cronaca che ha segnato gli anni 10 il 26 agosto 2010 è la data in cui la madre Concetta denuncia alla scomparsa della figlia 15enne uccisa nella stessa giornata e ritrovata tragicamente sulle 6 ottobre grazie alla prima confessione dello zio Michele Messeri la verità processuale è sancita dalla corte di Cassazione il 21 febbraio 2017 dell'omicidio vengono riconosciute colpevoli la cugina Sabrina Messeri e la zia Cosima Serrano condannate all'ergassolo per unicidio volontario aggravato dalla premeditazione Michele Messeri intanto ha scontato 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove ed è stato scarcerato a Lecce l'11 febbraio scorso continua a dire di essere stato lui a uccidere la ragazza non si fermano invece le traslazioni cinematografiche e televisive del caso di cronaca arriverà in autunno qui non è Hollywood fiction in quattro puntate sulla caso Scazzi scritta e diretta dal regista Pippo Mezzapesa su Disney Plus torniamo nel San Netto andiamo a Lecce dove si stanno effettuando i festeggiamenti in onore del santo padrono Santo Ronzo che tra l'altro abbiamo in parte seguito in diretta su Antenna Sud ma vediamo l'aggiornamento facciamo il ripeto di quello che è successo fino a questo momento con Maria Teresa Carrozzo La festa di Santo Ronzo si avvia verso la sua conclusione con l'ultima giornata di celebrazioni in città tuttavia quest'anno i festeggiamenti continueranno anche nelle marine a partire da domani 27 agosto in città il programma prosegue con il giro delle bande che oggi attraverserà i quartieri Leuca e Parco Tafuro passando per Piazzetta Verdi via Nazario Sauro Piazza Mazzini Galleria Mazzini via Zanardelli l'area antistante la chiesa di Sant'Antonio a Fulgenzio e piazza Ludovico Oriosto quando la banda passò è un tour realizzato dalle bande di Taviano e all'Iste mentre la banda di Lecce si è esibita in un mattinè nella cassa armonica di Piazza San Toronzo la banda Nino Fari diretta dal maestro Giovanni Pellegrini terrà invece un concerto non stop dalle 20 alle 24 preceduta dall'esibizione della Zagor Street Band non solo musica dalle 21 nel Chiostro dei Tratini andrà in scena lo spettacolo teatrale in vernacolo ma ci senti una commedia di William Fiorentino organizzata dall'associazione culturale Lab il momento clou della giornata e probabilmente dell'intera festa però sarà il concerto di Albano previsto per le 21.30 in Piazza Libertini nell'ambito della rassegna sera ed agosto il celebre cantante noto per la sua voce potente la sua carriera che ha attraversato decenni si esibirà accompagnato da Maurizio De Lazzaretti batterista di fama internazionale e dei figli di Ari e Jasmine aggiungendo un tocco personale alla serata la serata si concluderà con l'atteso spettacolo pirotecnico in zona Masseria Grande a cura di diverse ditte pirotecniche che sarà possibile seguire in diretta tv su Antenna Sud dalle ore 23.45 C'è un incidente stradale mortale la notizia giunge in redazione un morto due feriti nel sinistro avvenuto sulla strada provinciale tra Vieste Peschici siamo nel Foggiano la vittima è un motociclista che stava viaggiando con la compagna a bordo della sua moto per cause ancora da accertare il mezzo ha impattato con un'automobile che procedeva in senso posto sono giunti i carabinieri l'agente della polizia locale e il personale della 118 per il centauro purtroppo non c'è stato nulla da fare adesso andiamo a vedere la consegna di un defibrillatore che sarà utile ovviamente a tutti i cittadini un defibrillatore pubblico nella città di Fragagnano siamo in provincia di Taranto un atto di grande generosità perché regalare un defibrillatore significa donare la speranza di una vita salvata a Fragagnano le suore Bologna le sister acti italiane tra volontariato e sorrisi hanno deciso di donare alla comunità un defibrillatore ricevuto da Francesco Tambasco volontario anche lui nel pronto soccorso di Milano vogliamo ringraziare l'associazione di Francesco Tambasco e le suore di Bologna per la donazione che intendono erogare in favore del nostro ente della biblioteca in particolar modo sono atti di grande generosità dimostrano la sensibilità nei confronti di una comunità anche a distanza e questo credo che renda ancora più importante il gesto noi siamo un gruppo come di acta l'italiana come il famoso sister act americano però noi siamo italiane e noi facciamo servizio di volontariato negli ospedali nelle grandi aziende dove noi ci esibiamo per raccolta fondi e poi facciamo queste donazioni e siamo venute qui a Fragagnano a portare al sindaco qui con noi un defibrillatore che ci è stato gentilmente diciamo regalato dal signor Francesco Tambasco che anche lui è presidente di un'associazione che si occupa di volontariato al pronto soccorso a Milano è tutto per questa edizione interregionale del nostro TG ma le notizie in diretta su Antenna Sud proseguono tra pochissimo con le news provinciali da Bari Bat e Foggia rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo Grazie a tutti